Anche la marca ha la sua zanna bianca. Il lupo solitario avvistato qualche notte fa da un pastore tra le vallati di Campea e Miane, nella pedemontana trevigiana. Una presenza peraltro datata e confermata anche da alcune fototrappole. Tiremo presente che la provincia di Treviso confina con quelle di Vicenza e con quelle di Belluno, dove l'anno scorso alcune fototrappole hanno immortelato dei lupi. Quindi è molto probabile se un pastore magari la settimana scorsa ha visto un lupo oppure presume di aver visti gli occhi di lupo verso mezzanotte o due di notte, può darsi che ci sia anche la marca trevigiana. Un ritorno legato alla migrazione dall'Abruzzo lungo le Alpi, ma anche dall'est Europa per un animale che non deve far paura. È un animale selvatico, lui si allontana, sta lontano dai centri abitati, dall'uomo, cerca sempre di stare un po' schivo. Se qualcuno intercetta, lasciatelo stare in estrema tranquillità, è un animale che comunque si allontana da solo. Ma il nostro zona bianca è più di un semplice avvistamento, è il segno di un ritorno della natura, dei suoi equilibri anche nelle nostre vallate. E il lupo cacciatore è quell'anello che mancava nella catena animale. Se pensiamo dei cervi che fino a 40 anni fa non esistevano neanche in provincia di Treviso, erano pochissimi, adesso sono a migliaia. Se pensiamo ai caprioli che sono a migliaia, se pensiamo ai cinghiali che erano spariti durante la Grande Guerra e sono ritornati. Sta cambiando qualcosa, ci sono tante specie che stanno ritornando e anche tante specie però allocotane e quindi che non sono utocotane, tipo la nutria, che stanno creando dei grossi problemi. Ecco il perché di un bentornato al nostro Zanna Bianca, con la consapevolezza che la sua bellezza sta nella sua libertà.